Musica Sono orgoglioso di essere il capitano di questo gruppo, forte, determinato e sempre affamato. Vogliamo scrivere un'altra pagina della storia giallorossa. Venderemo caro la pelle fino alla fine. Insieme saremo una grande squadra. Sono sicuro che tutti i miei compagni daranno il massimo. Abbiamo luttato come leoni per un'intera stagione. Non abbiamo nessuna intenzione di volare adesso. Forza vivo! Abbiamo un sogno e vogliamo realizzarlo. Chau!